Una situazione insostenibile, carrozze piene e ritardi sono ormai all'ordine del giorno per i pendolari bassanesi che sempre più spesso si rivolgono alle associazioni dei consumatori per risolvere un problema ormai divenuto cronico. Ieri l'incontro con i vertici regionali di Trenitalia. Abbiamo parlato dei ritardi che ci sono nelle varie linee, tra cui quella di Bassano, ovviamente abbiamo affrontato in maniera specifica. Abbiamo parlato soprattutto della pulizia dei treni, il rispetto quindi del numero delle carrozze in proporzione al numero dei passeggeri ma soprattutto abbiamo chiesto che Trenitalia ci dia un referente come avevamo qualche anno fa con il vecchio direttore regionale il quale noi possiamo immediatamente rappresentare i problemi che si creano durante l'esercizio della ferrovia. Nei giorni scorsi i sindaci avevano ipotizzato la possibilità di un raddoppio di binari in alcune tratte della Bassano-Venezia soluzione che potrebbe snellire e non di poco il traffico sulla linea. L'assessore regionale ha subito stoppato le parti dicendo che bisogna mettere mano ai fondi quindi fondi per adesso credo che non ce ne siano o comunque mi ha detto che dovranno essere valutati perché il costo del raddoppio è molto elevato. Però almeno una buona notizia potrebbe finalmente arrivare per i pendolari bassanesi e non solo. Grazie. Grazie.